Blitz antidroga con sorpresa per i carabinieri della provincia di Napoli. Durante un'operazione volto al contrasto delle attività di spaccio nei comuni dell'area metropolitana del capologo campano, i militari hanno rinvenuto in alcuni casi droga nascosta in luoghi impensabili, come altarini e statue sacre. I ritrovamenti sono stati effettuati nelle cassette della posta, nei sottoscala o all'interno di vani ascensore, degli edifici ispezionati dalle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, in particolare a nell'area nord di Napoli, hanno perquisito luoghi e zone alla ricerca di sostanze stupefacenti. I comuni di Brusciano e Castello, quelli dove si è concentrato maggiormente l'attività dei carabinieri e dove si sono verificati i sequestri. Passate a setaccio strade e piazze senza trascurare spazi comuni come aiuole o cantine e gli androni dei palazzi. I carabinieri della locale compagnia, insieme ai colleghi del reggimento Campania, nel rione popolare, la Cisternina, hanno rinvenuto e sequestrato numerosi dosi di diverse specialità di droga, un caricatore Beretta 9x21 e bilancini di precisione. Anche a Brusciano, nel cosiddetto rione 219, sequesti di droga con numerose dosi già pronte per la vendita al dettaglio. La sostanza stupefacente era nelle zone comuni e quindi a carico di ignoti. C'è un precedente sul territorio di Napoli quando nel 2022 un ventenne di Ponticelli venne ritenuto il proprietario di mezzo chilo di droga trovati nel tombino di un parco pubblico.